Anelli, orecchini ed orologi nascossi all'interno di un calzino e chiuso dentro una valigia. Questo il bottino recuperato dalla polstrada di Battifolle nel corso di un normale controllo lungo il tratto a retino della 1. Gli agenti ieri sera hanno infatti fermato una Fiat Panda con targhe italiane con due persone a bordo, uno dei quali appena maggiorenne, mentre l'altro è risultato un 46enne. Alle richieste dei poliziotti riguardo a cosa ci facessero in zona Valdarno provenienti da Bologna, hanno fornito motivazioni per nulla convincenti e quindi scattato una perquisizione dalla quale sono saltati fuori 21 monili risultati di ingente valore economico. Considerato che qualche settimana fa sempre la sottosezione di Battifolle aveva denunciato il responsabile di una truffa ad un'anziana avvenuta in Liguria, le indagini al momento sono rivolte nella medesima direzione. Entrambi i soggetti sono stati denunciati per ricettazione, gioielli ed orologi sequestrati così come l'auto sulla quale stavano viaggiando. Grazie a tutti.